Vi do due notizie dell'ultima ora, sono due operazioni delle forze dell'ordine, una è dei carabinieri del ROS che appunto hanno collaborato con diversi comandi provinciali, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA a carico di 43 indagati. Ci sono tantissimi reati per questi indagati, sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, finalizzata anche alla commissione di truffe aggravata dalla finalità mafiosa, poi c'è la turbativa della libertà del procedimento di scelta del contraente, c'è l'estorsione, insomma non ve li dico tutti perché sono davvero tantissimi. Invece poi c'è un'altra operazione, anche questa è dei carabinieri di Monza questa volta.